Salve a tutti, siamo arrivati al terzo appuntamento in questa serie di chiacchierate che hanno come protagonisti tutti quegli animali in qualche modo implicati di arriccare danno o molestia all'uomo e agli altri animali. Oggi è il turno di alcuni insetti ematofagi a partire dai phlebotomi o phlebotomi. Che cosa sono i phlebotomi o phlebotomi? I phlebotomi o phlebotomi sono dei piccoli ditteri appartenenti alla famiglia degli psicodidi. Le caratteristiche morfologiche generali sono la presenza di una fitta peluria sia nel torace che nell'addome che sulle ali è un colore tendente al paglierino giallognolo da cui il termine anglosassone per questi insetti di sandfly è una posizione delle ali verticale a 90 gradi rispetto al resto del corpo. Infatti sono dei pessimi volatori capaci solo di fare dei piccoli balzi in senso verticale o orizzontale. Le loro abitudini di volo, soprattutto riguardo le femmine ematofaghe, sono legate alle ore più fresche della giornata e quando non sono attive permangono negli stessi anfratti dove vivono le larve. Le loro piccole dimensioni 2 o 3 mm ne fanno una specie di zanzare in miniatura e come queste hanno la caratteristica di avere femmine adulte le quali per maturare le proprie uova hanno necessità di un pasto di sangue. Il pasto di sangue viene svuoto sui diversi gruppi animali non si ha spesso una netta prevalenza tra questi e l'uomo in ogni caso ci sono alcune specie a quanto moleste perché in grado di proliferare anche negli ambienti umani soprattutto dove vi sono animali selvatici o domestici. L'apparato boccale dei papataci è molto meno vistoso rispetto a quello delle zanzare ma si può chiaramente definire come analogo nelle sue funzioni. Un'altra caratteristica peculiare di questi insetti è sicuramente il fatto di appartenere a quelle categorie di specie moleste che possono rendere infrequentabile un ambiente. Il ciclo di sviluppo dei papataci Il ciclo di sviluppo di questi insetti si svolge in circa 50 giorni come gli altri diteri sono a metamorfosi completa per cui dopo la deposizione delle uova da parte delle femmine si ha la schiusa degli stradi larvali. Una volta terminati gli stradi larvali gli adulti, come ha detto su arfalla, si nutrono come le zanzare di sostanze zuccherine, nette e prodotte dai vegetali e poi dopo l'accompiamento le femmine andranno a cercare gli ospiti da cui prelevare il sangue necessario all'apporto proteico ai fini della maturazione delle uova. L'habitat ideale dei papataci L'habitat tipico delle larve e anche degli adulti sono i recessi più bui e umidi rappresentati per esempio dalle cavità degli alberi, gli alfratti del terreno o comunque le parti dei fabbricati maggiormente favorevoli alla proliferazione delle larve che assumono un comportamento alimentare di tipo detritivo sostanzialmente. Un abitat tipico ad esempio di questi insetti sono le tane dei roditori che peraltro fungono essi stessi da ospiti per il prelievo del pasto di sangue. Le specie più importanti dal punto di vista sanitario sono il flebotomus papataci e il flebotomus perfilievi che per la loro abbondanza sono praticamente presenti su tutto il nostro territorio nazionale. L'importanza sanitaria dei papataci nasce dal loro ruolo come vettori passivi della lesmaniosi. La lesmaniosi è una malattia endemica nell'uomo il cui serbatoio principale rimangono gli animali domestici e in particolare il cane. E' proprio in quest'ultima specie che si manifesta più spesso questa patologia. I papataci sono proprio gli agenti di veicolazione dei nematodi che determinano la lesmaniosi. Si chiude qui il terzo appuntamento con le nostre chiaccherate su artropodi e altri animali molesti. Ci vediamo alla prossima puntata. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.